Ciao, il progetto di legge che presentiamo oggi è una legge organica per la parità e contro le discriminazioni e la violenza di genere. L'intento vuole essere quello di costruire un impianto normativo che riunisca e metta insieme tutte le disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne e ovviamente quelle relative alle azioni contro le discriminazioni e la violenza di genere. Abbiamo voluto delineare dei principi che possano caratterizzare trasversalmente tutti gli ambiti di intervento. Lo scopo è quello di dare un punto di riferimento unitario e coerente per chiunque voglia sapere in Lombardia cosa c'è su questi temi sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista attuativo e naturalmente un punto di riferimento per eventuali e futuri interventi. Abbiamo voluto dedicare grande attenzione alla promozione della cultura delle pari opportunità e del linguaggio di genere. Ci siamo concentrati sulla salute e il benessere femminile. Abbiamo dedicato ampio spazio al lavoro e all'occupazione femminile in particolar modo per la conciliazione dei tempi di vita per valorizzare il ruolo della donna lavoratrice nella vita sociale e nella vita familiare. E ancora l'attuazione di politiche di genere con alcune interessanti introduzioni come il bilancio di genere, la statistica di genere e anche la costituzione della conferenza regionale delle lette. Tanti sono i temi. Vi invito a leggere il progetto di legge con estrema attenzione ma soprattutto attendiamo i vostri contributi e le vostre osservazioni. Grazie